ciao ragazzi volevo fare questo piccolo aggiornamento perché mi è appena arrivato come vedete da questa busta bianca questo stand per mettere verticalmente millennium falco della lego il 75257 l'ho preso su amazon è stato spedito dalla cina quindi c'è avuto 20 giorni buoni prima che arrivasse però la data loro te lo dicono quindi non puoi rimanere sorpreso e ora procediamo solo ad aprirlo poi vi farò vedere come viene solo se capisco come si fa da più ecco così si apre così ed ecco qua con questi mattoncini qua ci sono le istruzioni istruzioni veramente fatte scusate se ve lo dico a cazzo di cane perché veramente c'è si capisce neanche dove al dritto ma ecco così tutto in bianco e nero ormai che parte tanto super giù sono solo di due colori ed ecco qua speriamo che come vedete qua ci sono le misure e speriamo che che lo tenga la ganci bene che rimanga bene su a me ragazzi niente vi faccio vedere come viene fuori come rimane agganciato al millennium falco così vi dico se ne vale la pena comprarlo secondo me oppure no ragazzi appena finito lo stand che dire non è una cosa velocissima perché ho sbagliato dei pezzi perché purtroppo come vedete sono fatte male le istruzioni tu giri la pagina queste sono stampate dietro ma devi girare il foglio perché sono messe male comunque vabbè quello è un problema migliore purtroppo qua a volte sono tanti che sono molto simili di questi mattoncini qua della tecnica e a volte ti confondi metterti di contare i forellini perché faccia che ti confondi pigli un pezzo più lungo o uno un po più corto non va bene perché ci sono pezzi che differenziano di due buchi quindi automaticamente veramente sono molto simili e infatti avevo sbagliato un pezzo dove sono un po più lungo rimaneva storto c'era qualcosa non andava poi mi sono messo lì con calma contatto bene infatti stavo sbagliando io comunque sono queste sono le istruzioni fate a cavolo ma ci sono in fondo vi fa vedere come potete collegare il vostro millennium allora questo credo che non si possa mettere per lungo cioè poi faccio vedere come viene non si può mettere col muso rivolto in alto perché quando le foto non c'è scritto quando le foto scritte si può mettere o verso un lato verso l'altro in modo che la gabbina di pilotaggio può stare sopra sotto peccato io lo voglio mettere un'altra maniera è uguale e niente ragazzi eccolo qua è abbastanza grosso come vedete qua c'è una parte che rimane più alta la parte rimane più bassa ho guardato bene bene ma è fatto così anche qui lo metto laterale così forse si nota di più come vedete ecco qua questo è un po più basso questo rimane questo rimane un po più alto non so perché ho guardato bene che non fossi a aver sbagliato invece era fatto così beh adesso vediamo anche qua come potete vedere questa parte rimane più bassa e questa parte rimane un po più alta non lo so come mai e niente adesso vediamo vi faccio vedere come ci sta sopra e nel caso si potesse mettere come vorrei io col muso verso l'alto perché diciamo che così rimane la parte più stretta mi ci sta in vetrina se no in diciamo in orizzontale comincia essere un problema mi sa che in vetrina non ci sta più va bene vi faccio vedere come viene ragazzi eccolo qua no purtroppo come avevo immaginate come avevo detto con il muso verso l'alto non ci sta non ci sta a meno che forse non si può modificare comunque non credo comunque non è per niente brutto è sta bene messo così in obliquo cioè in verticale scusate in orizzontale verticale come volumete io questo in orizzontale non sta male il problema che non ci sta più in una vetrina comunque amen e ora ve lo giro un po vediamo sembra anche abbastanza stabile come vedete i piedini o forse bisognerebbe girare i piedini ma devo smontarli no non esiste lo lascio così e non è brutto ragazzi non sta male fa la sua bella figura perché ripeto a me non dispiace proprio per niente se volete sapere quale ho comprato su amazon sperando che ce ne sia ancora mi scrivete io vi dico il numero o preciso insomma come salire al mio acquisto ragazzi ripeto molto bello peccato che questo modello qua non si può mettere in verticale peccato davvero perché purtroppo così perché non mi ci sta più in vetrina forse messi in obliquo forse sapete classiche vetrine quelle di ricchea no ecco quelle che ormai credo che comprano tutti che hanno tutti almeno una in casa ce l'abbiamo tutti e non sono adesso non mi ricordo che nomea e quindi non credo che mi ci stia forse ci sta però però in obliquo per l'obbligo perde un po va bene vedremo comunque bello viene ragazzi io vi consiglio di se avete il millennium falcon piuttosto che metterlo classico appoggiato è meglio con questo rimane molto molto più bello sembra anche più grosso perché appoggiato perde un po sembra più piccolino perché è molto stretto quindi sembra molto piccolo invece messo così in obbligo da proprio dall'idea del massiccio del grosso a me piace molto va bene ragazzi spero che questo video vi è piaciuto se è piaciuto per favore lasciate un like e al prossimo video ripeto se avete delle domande fatemene pure vi rispondo appena posso volentieri purtroppo non sono immediato nel rispondere perché non me ne accorgo sempre tra lavoro questo quattro non è che mi accorgo subito che qualcuno ha fatto delle domande ogni tanto vado a controllare se vedo delle domande rispondo molto volentieri e ripeto se volete sapere perché visto che ce ne sono tanti ma tanti tanti qual è quello che ho comprato io ve lo scrivo tranquillamente in descrizione o rispondendo delle vostre domande vi dico qual è ok ci vuole un attimo solo di paziente aspettare che arriva perché è spedito dalla Cina quindi calcolate che un 15 20 giorni vi ci vogliono tutti però poi è abbastanza resistente e tiene bene ciao ragazzi alla prossima